Cosa succede dal punto di vista economico con l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea? Credo che sia molto difficile dire cosa succederà. Innanzitutto dipende dalle reazioni delle persone, poi in genere si parla dei mercati, ma insomma le reazioni delle persone. Rimane il fatto che l'Unione Europea è stata ferita da questa uscita, che comunque vorrei anche dire che l'Unione Europea negli ultimi tempi non si è dimostrata all'altezza delle problematiche da affrontare. È possibile che altri Stati attualmente sull'onda dell'entusiasmo magari decidano di fare le loro mosse per uscire dall'Unione Europea? E in caso cosa succederebbe? Quale sarebbe il contraccolpo? Allora, intanto diciamo perché un paese dovrebbe uscire dall'Unione Europea? Una cosa è la storia dell'Inghilterra che non ha mai voluto entrare in un processo di integrazione politica dell'Europa. Altra cosa l'Olanda, l'Italia, la Francia, eccetera. Un paese piccolo non avrebbe vantaggi, cioè per esempio l'Olanda, la Rimarca, l'Austria, non avrebbero vantaggi. L'Italia è il problema che è profondamente legato alla Germania dai vincoli economici. La Germania è il nostro principale partner economico in assoluto, soprattutto anche nel campo del turismo, non solo dell'industria ma anche del turismo. Il 50% dei turisti in Italia sono tedeschi, austriaci e così via. Quindi mettersi con la Spagna, sgangherata, il Portogallo, la Grecia, eventualmente la Francia, Francia per vedere se poi vince la Le Pen, addio Francia, per contrattare con la Germania è ridicolo e puerile. Quindi l'Italia è meno male, deve stare con la Germania.